Nello schianto un'auto ha riportato la distruzione della parte anteriore, mentre l'altra è stata scagliata nel fossato che costeggia in quel punto la strada. È accaduto a Castelmassa, nella mattinata di venerdì 29 aprile, all'incrocio tra le vie di Mezzo e Castello. Si tratta di un punto dolente della viabilità cittadina, spesso teatro di sinistri e per il quale i residenti in zona auspicano l'adozione di misure che possono mettere in sicurezza l'intersezione, per fortuna in questo caso l'incidente non ha avuto un bilancio pesante per le persone, si parla di contusioni e traumi molto leggeri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per gestire la viabilità in sicurezza e il personale dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza i mezzi dopo aver agevolato i soccorsi.